bella a tutti ragazzi sono Zetraf HD e benvenuti a questo mio nuovo video eccomi tornato qui per provarvi un video diverso dal solito ovvero un doppio sciame giocato con sensibilità 1 una cosa davvero epica e molto difficile da dover fare ragazzi non vi consiglio neanche di provarlo altrimenti andrete per tutte le furie se non ci credete ritornate all'inizio del video in cui ho settato appunto delle opzioni la sensibilità 1 ebbene si ragazzi eccomi tornato qui con questo video diverso dal solito meglio con questa sfida in cui appunto riesco a prendere non uno ma due sciame di fila ragazzi spero che appunto vi piaccia un video del genere non venite qui a dirmi vabbè ma giochiavi su uccisioni confermate la modalità in cui basta prendere una piastrina e arrivi a visate bla 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 bene ragazzi vi consiglio di seguire il video fino alla fine perché merita come vedete usavo un semplice vector silenziato con caricatura aumentato adesso i bonus non me li ricordo ma più o meno sono i soliti diciamo quelli principali che uso per tutte le mie classi ovvero fantasma, inflessibile, sciacallo e geniere ma non ne sono molto certo allora ragazzi diciamo eccomi tornato qui con questo video un po' particolare che quello che più mi è risultato difficile è riuscire a girare la visuale poiché con sensibilità, uno la sensibilità che non usa neanche il principiante che ha appena avuto code davvero quello che risulta più difficile è girare una volta che premi l'analogico per girare la visuale finché si gira completamente puoi anche andare a fare altre cose che non dico neanche spero ci arrivate appunto ringrazio anche la mia squadra non sono qui per nominare o sponsorizzare o robe del genere ma ringrazio anche loro che grazie a loro grazie a loro scusate per questo gioco di parole sono riuscito a prendere questo doppio sciame praticamente una volta preso il visat è fatta perché grazie ai suoi assist arrivi molto facilmente ai cani basta prendere una singola piastrina e arrivi ai cani più avanti vedrete il punto in cui appunto prenderò lo sciame mi fermerò un attimo e staccherò le mie cuffie perché volevo farvi sentire le loro urla quando appunto ho preso lo sciame ma purtroppo forse ho settato male le impostazioni audio della playstation e non sono riuscito a registrarli allora ragazzi eccomi tornato diciamo dopo questo un po' di giorni di assenza non chiamiamolo in attività ma mi scuso poiché siamo in un periodo diciamo critico per quanto riguarda la scuola è un periodo in cui ci sono davvero sono programmate tantissime verifiche non so voi ma davvero siamo in un periodo che bisogna studiare perché altrimenti se non fai qualcosa per il tuo futuro qui in questa società siamo davvero messi male non sono qui ma dico purtroppo la verità quindi ragazzi vi consiglio di studiare vabbè non faccio non solo qui per fare il professore ma diciamo la strada giusta anche questa quindi si stanno accumulando un po' di verifiche il tempo di studiare e soprattutto la voglia diminuisce sempre di più anche perché diciamo ormai mancano se facciamo bene i conti mancano 4 mesi poi diciamo che a maggio ha poca voglia di studiare non si fa niente eccetera quindi ragazzi concentratevi almeno per questi ultimi mesi ascoltate i consigli del vostro Raffa e quindi cercate di andare bene a scuola diciamo oggi mi sento un professore dopo questo commentary vabbè e ragazzi spero che vi aiutate questo gameplay come buon video perché davvero riuscire a prenderlo anche mi è risultato molto difficile e soprattutto non ho adottato un tipo di tecnica difensiva non mi sono chiuso lo spawn o robe del genere ma quel tipo di giocatore diciamo si diverte ad andare a ammazzare la gente quindi va sempre lo spawn dritto ad ammazzarli soprattutto se sono francese ancora di più quindi mi scuso anche se ho diciamo tagliato la parte iniziale in cui ho iniziato la partita poiché praticamente non c'era nulla di particolare perché sono arrivato praticamente al disat e improvvisamente poi mi hanno ucciso siamo quasi arrivati al secondo sciame spero ragazzi che il video vi sia piaciuto vi raccomando vi ricordo di restare collegati per i prossimi video e qui lo sciame è arrivato e spero che vi sia piaciuto un video del genere soprattutto me lo ricompenserete lasciando un bel mi piace bene ragazzi siamo giunti al termine del video un saluto da ZRFHD e ci si sente nel prossimo video bella ciao ciao